Beh, io dicevo Italia-Brasile. Stasera abbiamo, è un'occasione unica in sala, un ospite eccezionale, brasiliano autentico, Cosè Altafini! E mi sembrava giusto chiamare qui Cosè che è stato un grande campione del calcio, ha giocato tanti anni. Grazie, Cosè, vorrei metterti alla prova con questo pappagallo, siete brasiliani entrambi, io penso che forse tu riuscirai a fargli dire Brasil, Cosè mi ha detto noi pronunciamo male, come si dice? Si dice Brasil, però... Ah, come si dice? Brasil. Brasil, eh. Però io ho sentito il pappagallo prima, diceva sempre Portobello. Eh, è rimasto sul vecchio fuso orario, ormai, lo so che dice Portobello, lo dice ormai a tutti, l'importante è fargli dire Cosè in trenta secondi, noi diciamo Brasil, tu dici Brasil. Prego, Cosè. Saremo felicissimi, attenzione, puoi cominciare, Cosè, attenzione, trenta secondi, via! Brasil, 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 non è abituato. Brasil, 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 non riesce a far gol nemmeno a Tafini. Brasil. Tempo, purtroppo, purtroppo, non ce l'abbiamo fatta. Buongiorno.